Un primo e fondamentale passaggio per andare avanti, conferma dell'importanza della vita sociale che ruota intorno alla popolare di Sondrio e del fatto che la voce dei piccoli azionisti debba essere considerata. A parlare è Matteo Lorenzo De Campo in rappresentanza sia dell'Unione del Commercio e del Turismo, di cui è vicepresidente, che come presidente dell'Associazione di Piccoli Azionisti Insieme per la Popolare. Una soddisfazione è quella per l'esito dell'Assemblea di sabato 30 aprile della BPS, la prima dopo l'avvenuta trasformazione dell'Istituto Bancario in Società per Azioni, condivisa anche da Coldiretti Sondrio e Confindustria, Lecco e Sondrio, che hanno sostenuto attivamente attraverso l'Associazione Insieme per la Popolare, appunto, distanza per la salvaguardia dei valori fondanti e identitari della Banca Popolare di Sondrio con i suoi 151 anni di storia al servizio del territorio. Come noto, per quanto concerne la nomina per il triennio 2022-2024 di cinque amministratori, ha prevalso con successo di voti la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione dei BPS e sostenuta con forza e determinazione da Insieme per la Popolare, che ha portato in particolare alla conferma di Francesco Venossa, presidente. Gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati raggiunti. Tengo a sottolineare quale aspetto qualificante, rimarca la Presidente di Coldiretti Sondrio, Silvia Marchesini, l'unità di intenti che ha animato le associazioni di categorie aderenti che si sono coalizzate per conseguire uno scopo condiviso, concretizzatosi appunto in questo primo e significativo risultato. L'esito dell'Assemblea ci vede soddisfatti perché siamo convinti che vada nella direzione di una conferma del ruolo della banca come interlocutore attento ai bisogni del territorio, con il suo apporto strategico per la sua crescita e il suo sviluppo, commenta il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio Lorenzo Riva. Queste sono del resto le ragioni per le quali siamo tra i promotori di Insieme per la Popolare, che continuerà a fare sentire la propria voce con efficacia a tutela degli interessi dei piccoli azionisti, del sistema produttivo e delle nostre province nel loro complesso. Mi sento orgoglioso, ha aggiunto De Campo, presidente di Insieme per la Popolare, di aver portato il contributo di tanti affinché la banca rimanga attenta ai bisogni della società civile, delle persone, delle famiglie e delle imprese. La banca non è un'attività economica qualsiasi, è un motore di sviluppo economico fondamentale e come tale deve rispondere a molteplici bisogni economici. L'esito appena ottenuto evidenzia che il territorio ha valorizzato e voluto contraccambiare quanto fatto dalla banca nei suoi lunghi anni di attività, nell'auspicio che questa continuità possa essere mantenuta anche per il futuro. E formula un auspicio anche la First CISL che riguardo alla nomina per il triennio 2022-2024 dei cinque amministratori tratti dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione scrive Ci auguriamo che tale esito di continuità mantenga intatta la strategia di tutela occupazionale e attenzione al territorio che storicamente contraddistingue la BPS. Attendiamo confermentale direzione dal prossimo piano industriale.